Io amo definirli i guardiani della natura e sono gli ortolani che continuano la tradizione della coltivazione sulle isole e nelle serre come facevano anticamente ai tempi della Serenissima ma ci sono soprattutto le compagnie remiere e non sono solo veneziane, anche a Lignano ce ne sono sicuramente a grado che portano avanti una tradizione millenaria che è la voga alla Veneta, una voga che si fa solo in laguna perché nelle lagune ci sono le secche e bisogna guardare avanti, quindi questi conservano le tradizioni creando un indotto dell'artigianato e portano avanti le tradizioni.